Su 13 controlli 5 non sono risultati conformi. È il bilancio in provincia di Salerno del controllo effettuato dai carabinieri del NAS presso le menze ospedaliere d'intesa con il Ministero della Salute. Il Comando dei Carabinieri per la tutela della salute ha effettuato un controllo a livello nazionale presso le menze all'interno delle strutture ospedaliere sanitarie per verificare le condizioni igieniche strutturali ma anche l'attuazione delle procedure di sicurezza alimentare. In provincia di Salerno, Avellino e Benevento complessivamente sono stati spezionati 21 punti di cottura, preparazione e distribuzione pasti situati in strutture sanitarie sia pubbliche che private. 8 di questi hanno evidenziato irregolarità e hanno portato i carabinieri ad elevare sanzioni amministrative per un importo complessivo di 2.000 euro. In due ospedali delle province di Salerno e Benevento sono state contestate violazioni delle procedure indicate nel manuale di autocontrollo poiché alcuni operatori addetti al confezionamento del cibo indossavano monili orologi. Nel corso delle verifiche sono stati anche eseguiti numerosi tamponi di superficie e campioni per la ricerca di agenti patogeni e contaminanti sulle aree di maggiore rischio, quali tavoli da lavoro, carrelli, vassoi utilizzati per la preparazione dei passi, risultati tutti conformi. Nel contesto sono state elevate a vario titolo diffide per le carenze strutturali o organizzative rilevate, informando le competenti autorità amministrative per l'immediata risoluzione.